Buongiorno a tutti bentornati in questo nuovo video della serie Ellie is waiting for Christmas Oggi sono qui con MySelleria per portarvi 10 de regalo adatte per il cavaliere Quindi oggi parliamo del cavaliere 10 regali che potete fare a vostri amici, vostri fidanzati, vostre fidanzate Qualunque persona che abbiate attorno e va a cavallo avrà sicuramente bisogno E apprezzerà sicuramente queste 10 de regalo che abbiamo preparato per voi oggi Non c'è un budget bensì appunto un tema Quindi in questo caso appunto il tema è il cavaliere Che cosa avrebbe bisogno una persona che va a cavallo o che ha un cavallo E che sicuramente potrebbe apprezzare queste idee Quindi partiamo con la prima Come al solito vi ricordo che sul sito di MySelleria potete usare il mio codice sconto Che mi scrivo qui ma anche qui giù nell'info box per i vostri acquisti Mi raccomando dovete essere registrati al sito e fare il login prima di mettere i prodotti nel carrello Quindi il codice funzionerà se sarete loggati nel sito Questo è molto importante perché spesso mi chiedete come mai non funziona il codice Dovete essere loggati prima di inserire i prodotti nel carrello La prima idea di regalo sono ovviamente un sacco di calze Chi va a cavallo possiamo testimoniare tutti siamo pieni zeppi di calze Questa No MySelleria ha introdotto a catalogo le calze di HKM Che ha fatto questi bellissimi pack che come regalo di Natale sono fantastici Sono dei pack di tre paia di calze Sono di diversi colori e di diverse fantasie In questo caso vi sto mostrando il viola che tra l'altro sono veramente stupende Viola e beige Guardate che bellissimo abbinamento super elegante Ma ci sono ad esempio anche nel verde Queste sono quelle che ho io a casa che uso quotidianamente La cosa che mi piace di più è che appunto è un pack Quindi non è il classico paio di calze singolo Che a volte può risultare un po' triste come regalo Ma è appunto un pack di diverse fantasie Ovviamente io ci tengo a menzionare anche le calze MySelleria Perché in questo caso sono anche termiche Queste tengono veramente super super caldo Sono imbottite e in questo caso invece potreste comprare un assortimento di tre paia di calze uguali Però insomma scegliete un po' voi Oppure abbinare le calze anche a qualche altro prodotto che vi farò vedere tra poco Non è necessario che appunto regalo sia soltanto le calze Ma nel caso in cui scegliate di prendere queste qua che invece sono termiche rispetto a quelle di HKM Potete abbinarle a qualcosa di diverso tipo una cintura o addirittura un cappellino per fare un set invernale Seconda idea regalo altro prodotto che utilizziamo praticamente tutti i giorni E che esiste in diverse forme, diversi colori e diverse funzioni Sono ovviamente i guanti In questo caso vi faccio vedere i guanti equestro Sono con il logo e la scritta Quindi molto 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 eleganti Hanno il grip all'interno Ma i guanti esistono di qualsiasi tipo Su MySelleria li trovate infiniti Li trovate imbottiti Li trovate con la retina in verso l'estiva Questi sono quattro stagioni Quindi non sbagliate Nel caso in cui decidiate di regalare dei guanti Mi raccomando fatemi un'idea sulla misura Ma ovviamente inserite sempre uno scontrino di reso Così che la persona che li riceverà potrà eventualmente cambiarli Perché il guanto è in realtà abbastanza tricky come regalo Perché appunto potreste sbagliare la misura Però insomma nel caso inserite sempre lo scontrino di cambio Questi sono quattro stagioni Sono veramente super carini Molto 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 eleganti come design Hanno appunto la scritta equestro E il logo in leggero rilievo Vi metterò qua la lista infinita di guanti Che potete trovare su MySelleria Terzo regalo che vi mostro in ambito cavaliere Abbigliamento Quindi diciamo cose che possiamo indossare Ovviamente è l'abbigliamento E in questo caso vi parlo delle felpe ricamate MySelleria Sapete che io ne sono innamorata Come vedete sono anche in versione natalizia Quindi trovate anche questa volendo in versione natalizia Ma se volete fare un regalo utile per tutto l'anno Le felpe sono carinissime Hanno all'interno tra l'altro un leggerissimo felpatino Quindi super comodo e super versatile Per qualsiasi tipo di stagione Anche in estate in realtà la sera Sono molto molto comode Sia rosa che nera che blu Quindi potete veramente fare un regalo super azzeccato Questa rosa però è la mia preferita È super carina Vabbè non potevo non menzionare In questo video di regali per il cavaliere I leggings Ella Sapete che io me ne sono innamorata Quando li ho provati per la prima volta Ma sono letteralmente innamorata Di tutti i pantaloni che fa la LT in realtà Perché è veramente una marca di ottima qualità Su MySelleria ovviamente trovate diverse marche Diversi tipi di pantaloni Ma ci tenevo a specificare questi I leggings Ella Perché li trovate sia in versione invernale Con il felpato all'interno Che in versione estiva 4 stagioni Sono in versione full grip Hanno il grip quindi lungo tutta la gamba Le tasche laterali sono enormi E contengono qualsiasi tipo di cellulare O qualsiasi tipo di biscotto Volete portarvi in sella Quest'anno li hanno rivisitati Aggiungendo anche i passanti per la cintura Quindi oltre ad essere leggings a vita alta Avete anche la possibilità di regolare appunto la vita Inserendo una piccola cintura Va bene, visto che l'ho menzionata Ovviamente non possiamo inserire una cintura All'interno di questa gift guide Io sapete che ho mirato questa cintura Con i filetti per tantissimo tempo Finché proprio non sono riuscita ad acquistarla Tempo fa in uno dei nostri tantissimi video haul Questa è la, cioè penso sia la cintura più ambita da qualsiasi equestre Quindi passerete i prossimi giorni a guardare la vita dei vostri amici Per capire se loro effettivamente hanno questa cintura oppure no Per potergliela regalare a Natale Di fascia accessibile questa è una cintura con il filetto Semplicissima in cuoio Molto morbida Tra l'altro di misura abbastanza standard Non dovete essere neanche troppo precisi Questo è il dettaglio del filetto E è un must have per gli equestri Quindi questa non sbagliate Ma ovviamente potete optare anche per qualcosa di un po' più luxury Come ad esempio la cintura di Cavalleria Toscana Questo è veramente un regalo super elegante Che ovviamente verrebbe apprezzato È ovviamente di una fascia leggermente meno accessibile Però è veramente un regalo super elegante Terminiamo la sezione abbigliamento Ovviamente con un bel berretto caldo Che è un regalo di Natale tradizionale Ma che sicuramente chi va a cavallo e chi frequenta la scuderia Anche nelle sere più fredde d'inverno Apprezzerà sicuramente I cappellini non sono mai abbastanza Anche in questo caso vi faccio vedere Una versione brandizzata My Selleria Sapete che io adoro i prodotti firmati My Selleria Quindi non posso non farveli vedere Questo è un berretto classico Di questo blu super acceso Con il logo My Selleria Berretto super carino e classicissimo Da abbinare anche questo O alla cintura o alle calze Altrimenti sempre di fascia un pochettino più alta Abbiamo ad esempio la cuffia della Equiline Questo bellissimo berrettino È imbottito in pile In un pile super morbido Questa è veramente una chicca Super elegante Quindi è un regalo molto chiccoso Passiamo al regalo un pochettino più funzionale In questo caso vi faccio vedere Questa carissima borsa Porta casco Porta in realtà qualsiasi cosa Nel senso che potrebbe portare anche le protezioni in gara Piuttosto che le spazzole Questa secondo me è una bellissima borsa Anche da grooming box È veramente super capiente Guardate che grossa Viene venduta come porta casco Ma sapete che noi Equestri Rivalutiamo qualsiasi cosa La trasformiamo per adattarla Alle nostre esigenze Quindi questa è una borsa Super elegante Di una fascia a prezzo accessibile Una borsina super carina Che chiunque la riceverà Potrà riutilizzare In base alle proprie esigenze Quindi non solo come porta casco Ma anche come porta spazzole Come piccola grooming box da gara La tasca anche davanti Eventualmente per il portafoglio Piuttosto che dei documenti O degli accessori più piccoli I manici sono in tela E al di sotto Ha i piedini appunto Per non rovinarsi Quando la appoggiate a terra Le prese d'aria Nel caso del casco Servono per appunto Lasciare espirare il casco E non far depositare il sudore Ma appunto anche nel caso In cui trasportiate delle spazzole O altri prodotti del cavallo Sono comunque funzionali Quindi ha anche questi due buchini Che sono prese d'aria Sia davanti che dietro Mi piace moltissimo questo Devo dire Un ottimo regalo Abbiamo accennato alle gare E in questo caso Vi faccio vedere un ottimo regalo Che secondo me Verrebbe super apprezzato Da chi frequenta le gare In maniera costante Questa è una sacca Della Hippotonic Portafieno Sapete che quando si va in gara Soprattutto durante il trasporto Oppure durante l'attesa Insomma per entrare in campo gara O addirittura quando si è finito Il cavallo ha bisogno Di portarsi dietro Un pochettino del suo fieno Per far sì che non Oltre a tutto lo stress della gara Riceva anche lo stress Di un cambio fieno Quindi io vi consiglio Sempre di portare dietro il vostro È letteralmente impossibile Farvela vedere Per bene nel video Però vi posso far vedere Che è fatta a sacca Proprio tipo zaino Quindi è anche comodissima Per il trasporto Ha il logo Hippotonic Qui davanti Il rilievo molto carino Ed è in tela molto resistente Quindi qui all'interno Potete mettere un sacco di fieno E chiuderla appunto Tramite l'apposito laccio E poi portarvela dietro O da usare per il trasporto O appunto da portare in gara O qualsiasi attività Dobbiate fare fuori casa Passiamo a un altro regalo Super funzionale Ma difficile da farvi vedere Vi parlo della borsa da box Che avete già visto in un mio reel Passato con Playboy Borsa da box ricamabile Infatti potete regalarla Facendo ricamare qui sotto Il nome del cavallo in questione È una borsa da box molto flessibile Quindi potete metterci dentro la qualunque Dalle spazzole alle coperte Allora si attacca il box Attraverso i ganci posteriori Ce ne sono due Potete attaccarla appunto O a una maniglia Oppure alle sbarre del box Ha una maniglia qui sopra Per essere trasportata E anche i due racci Per essere chiusa Comodamente Come i seleria quest'anno Potete trovare Come l'anno scorso Diversi pacchettini promozionali Con all'interno Dei prodotti utili O per il cavallo O per il cavaliere In questo video vi faccio vedere Il pack dedicato Alla cura del cuoio Infatti all'interno Troverete Grasso per il cuoio Questo invece è un gel Per nutrire e pulire il cuoio Qualsiasi accessorio in cuoio Voi abbiate Quindi dalla testiera Appunto alla sella E questo qui Che è uno spray nuovo Per il cuoio Per la cura del cuoio Questo è appunto A forma di spray Nella confezione Trovate anche Lo spruzzino C'è scritto Con coconut oil È molto 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 interessante Spray appunto Per rimuovere lo sporco Dagli stivali Piuttosto che la sella Molto funzionale Molto più veloce Rispetto al classico grasso Questo appunto È un prodotto nuovo Il pack per la cura del cuoio Penso sia il regalo Perfetto da fare O in forma simpatica A chi non pulisce mai Le proprie cose di cuoio Oppure a chi è troppo fissato Con la pulizia E quindi fisce sempre Tutti i prodotti Ok i 10 regali Per il cavaliere Sono finiti È vero Però ho un bonus Sia perché so che Magari tra di voi C'è qualcuno Che potrebbe essere appassionato Anche a questa chicca Che vi sto per far vedere Sia perché so che Molti bimbi Della mia scuola Mi seguono Mi guardano E guardano i miei video Insieme alle mamme E quindi posso darvi Anche questa piccola Chicca in più Passatevi L'undicesimo regalo Qui abbiamo Un hobby horse Che trovate Da appunto Quest'ultimo periodo Nel catalogo Di My Selleria Su My Selleria Trovate un sacco Di piccoli gadget Che possono essere Dei pensierini Veramente minuscoli Rispetto a quello Che vi ho fatto vedere Ma anche appunto Il hobby horse E tutti i suoi accessori Queste erano Le 10 del regalo Che insieme a My Selleria Abbiamo pensato Per il cavaliere Ma ovviamente Sul loro catalogo Trovate tantissime altre idee Con cui potrete Sbizzarrirvi Per i regali Di quest'anno Fatemi sapere Qui nei commenti Se avevate Già delle idee E se avete Delle idee diverse Da queste Scrivetele nei commenti Oppure fatemi sapere Se vi ho avuto Qualche idea utile Per quest'anno Ricordatevi che Su My Selleria Potete usare Il mio corice sconto Che trovate qui Ma anche qui giù Nell'info box Mi raccomando Iscrivetevi al canale Perché ci sarà Un video al giorno Per tutto dicembre Fino al 25 Io vi mando Un grande bacio Iscrivetevi al canale E ci vediamo Al prossimo video Ciao